Sono state dette molte cose, proverò a raggrupparle in alcuni temi, non per rispondere a tutti gli elementi puntuali necessariamente, ma per chiarire alcuni giudizi che sono stati espressi. Innanzitutto la responsabilità. È chiaro che si tratta di una responsabilità diffusa quando c'è un elemento di crisi che si è pur circoscritto riguarda il funzionamento di un sistema. Vorrei innanzitutto chiarire che il mio accenno all'educazione finanziaria non aveva alcun significato di attribuire la colpa ai risparmiatori. Aumentare l'educazione finanziaria delle famiglie e degli risparmiatori è un antidoto contro la possibilità che ci siano comportamenti non trasparenti e non legittimi in alcuni casi che portino a un danno per gli risparmiatori. Ci possono essere responsabilità anche nel sistema bancario, queste cose andranno verificate caso per caso. Ci possono essere altre responsabilità. Il governo sostiene l'idea di una commissione d'inchiesta che faccia luce in modo trasparente e obiettivo sull'andamento del sistema bancario e delle misure di sostegno in questi ultimi anni.